Musica Buon pomeriggio edizione delle 14 del nostro telegiornale Ben trovati in apertura alla cronaca I carabinieri di Locri hanno rinvenuto a Bovalino un bunker considerato nella disponibilità ai tempi della faida di San Luca della frangia Pelle-Vottari ma vediamo i dettagli nel servizio I carabinieri del gruppo di Locri e dello squadrone li portato cacciatori da Spromonte di Vibo Valencia a Bovalino hanno effettuato diverse perquisizioni domiciliari delegate dalla procura distrettuale antimafia di Reggio Calabria finalizzate alla ricerca del latitante Antonio Pelle su cui pende una condanna a 12 anni di reclusione in appello per associazione di tipo mafioso a seguito dell'indagine Feida che ne ha qualificato all'intranità alla cosca Pelle-Vottari nonché l'ordinanza di custodia cautelare in carcere per associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti emessa nel 2012 dal Tribunale di Roma Le operazioni di ricerca sono state estese anche ai terreni di pertinenza ai circostanti le abitazioni perquisite dove sono stati effettuati in profondità alcuni saggi avvalendosi di un escavatore Nel corso delle ricerche, località selvaggine sotto un capannone e nella disponibilità di un 61enne di Bovalino è stato rinvenuto un bunker sotterraneo in muratura delle dimensioni di 50 metri per 12 circa e per una superficie complessiva di 600 metri quadrati non di recente utilizzo al cui interno erano presenti un modulo abitativo completo di due posti letto, cucina e bagno circa mille vasi in plastica contenenti terreno sacchi di concime e decine di fusti fertilizzante e liquido lampade alogene e aeratori per la coltivazione della canapa indiana L'accesso era consentito mediante una botola a sollevamento idraulico occultata nella pavimentazione del capannone coperta da balle di paglia Il bunker all'esito dei rilievi condotti dal personale della sezione investigazioni scientifiche del comando provinciale di Reggio Calabria è stato sottoposto a sequestro per i successivi approfondimenti è ritenuto il bunker nella disponibilità della cosca Pelle Vottari di San Luca Ieri pomeriggio intorno alle 18.30 circa una squadra dei vigili del fuoco di Crotone è intervenuta nel comune di Cerenzia località San Lorenzo per l'incendio di una casa rurale disposta su due piani al momento non abitata e utilizzata come deposito di attrezzature agricole l'intervento immediato dei vigili del fuoco ha evitato che l'incendio si propagasse ad altri quattro magazzini adiacenti anche perché all'interno della casa sono state trovate due bombole a gas che sono state immediatamente messe in sicurezza intanto sono in corso gli accertamenti del caso per stabilire la natura dell'incendio Ancora la cronaca sorpreso senza biglietto durante un controllo su un autobus del trasporto urbano di Catanzaro si è scagliato contro l'addetto che gli aveva chiesto i documenti col pendolo con calci e pugni Fabio Luigi Nicoletta, 34 anni che ha anche rifiutato di scendere dal mezzo è stato arrestato e posto ai domiciliari dei carabinieri con l'accusa di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale interruzioni di pubblico servizio e rifiuto di fornire le generalità E cambiamo argomento parliamo di lavoro perché i lavoratori di InfoContact si sono riuniti in un'assemblea rende un momento di confronto ospitato dallo spazio autogestito Sparrow ma vediamo il servizio Assemblea allo Sparrow di Rende per parlare della difficile situazione in cui versano i dipendenti del call center InfoContact su cui pende la mannaia del rischio di perdita del posto di lavoro nei prossimi mesi Un incontro confronto ma anche e soprattutto momento per esprimere sostegno ai 1800 lavoratori per cui il futuro appare oggi quanto mai incerto È anche una possibilità data ai lavoratori di riunirsi e di rompere il silenzio che sul comune di Rende c'è su questa vicenda perché ricordiamolo che in questo comune siamo circa 500 lavoratori InfoContact e nel comune di Rende insomma è un comparto diciamo siamo abbastanza penso è significativa la nostra presenza quindi uscire dal call center per la prima volta trovarci dopo quest'estate per la prima volta dopo quest'estate ritrovarci in un luogo della città può essere la possibilità di rompere l'isolamento e farsi che questa storia non si consumi nel silenzio ma che abbia ancora più risonanza di quella che è necessaria insomma quindi noi abbiamo deciso come lavoratori di incontrarci qua anche come Sparrof di ospitare questa iniziativa proprio perché sentiamo di dover dire qualcosa e di dover essere solidali di dover fare uscire questa problematica fuori dal posto di lavoro Il presidente della regione Mario Oliverio nell'esprimere forte preoccupazione per la notizia di ieri che coinvolge i sanitari dell'ospedale di Corigliano ha disposto un'indagine interna al fine di verificare eventuali responsabilità tale verifica è stata avviata anche con l'obiettivo di supportare le attività investigative della magistratura e degli organi inquirenti Voltiamo pagina ancora la vertenza Infocontact questo è il destino di centinaia di lavoratori precari è stato al centro del consiglio comunale congiunto tra vari comuni tenutosi presso il centro agroalimentare di Lamezia Terme ma sentiamo il servizio Il consiglio congiunto dei comuni a Lamezia Terme è iniziato con un minuto di silenzio per ricordare Caterina Porpiglia 35enne di Reggio deceduta in un incidente stradale due giorni fa a Vibo Valencia erano presenti i consiglieri oltre che di Lamezia di Celi, Corrende, Soveria Mannelli San Pietro Maida, Filadelfia, Martirano tutti uniti per difendere i posti di lavoro Noi come sindaci, consiglieri comunali presidente del consiglio possiamo fare molto poco al livello proprio fattivo nel senso che non possiamo cambiare le sorti di una società che in questo momento è un po' decotta ma abbiamo invece il dovere morale di essere vicino ai lavoratori essere vicino ai sindacati essere vicino alle famiglie dei lavoratori e devo ringraziare tutti i sindaci i consiglieri comunali e il presidente del consiglio delle varie città che hanno aderito all'iniziativa perché vogliamo dire che gli siamo vicino vogliamo dire al governo che non possiamo essere trattati di serie B che abbiamo gli stessi diritti delle altre città dove il tavolo di crisi ha prodotto leggi che permettono il mantenimento dei posti di lavoro noi chiediamo questo credo che essere vicini essere attenti essere insieme sia un segnale forte un segnale che non può fare rimanere inascoltate le nostre richieste Per i lavoratori un momento importante per un'avvertenza che preoccupa tantissimo vista la situazione di precarietà in tutto questo anche la richiesta di un tavolo permanente per risolvere l'avvertenza InfoContact e progettare il lavoro in tutta la regione Calabria La richiesta è molto chiara noi vogliamo continuare a lavorare noi vogliamo continuare a produrre noi vogliamo continuare a restare nella nostra terra e non è giusto per colpe non nostre dover perdere il proprio posto di lavoro non abbiamo bisogno di ammortizzatori sociali al Ministero ci sono i colleghi che stanno presenziando anche i sindacati e tutti quanti noi dobbiamo mantenere il nostro posto di lavoro non è accettabile nel 2015 più questa lotta a ribasso da parte delle commesse senza andare a guardare la qualità del servizio che viene offerto noi abbiamo ricevuto diversi premi anche a livello europeo per i nostri servizi di qualità e soprattutto per la nostra professionalità abbiamo prodotto per la Calabria oltre 40 milioni di euro all'anno quindi io penso che non ci sia in Calabria oggi un'azienda capace di produrre redditi che vengono dall'esterno soprattutto perché sono commesse diciamo dall'esterno della Calabria con 40 milioni di reddito che danno posti di lavoro a 1800 famiglie con ricadute occupazioni e ricadute anche a livello di indotto secondo me che si devono essere messi al primo posto davanti a tutto così dai rappresentanti istituzionali dei comuni che hanno aderito alla convocazione del Consiglio Congiunto su Infocontact la solidarietà e la vicinanza ai lavoratori che rischiano di rimanere senza lavoro Una conferenza stampa nella mattinata di ieri presso la sala giunta del comune di Crotone invece per la presentazione dei lavori pubblici in diversi quartieri della città ai nostri microfoni l'assessore ai lavori pubblici Emilio Candigliota sentiamo Assessore Candigliota parliamo di lavori pubblici nei vari quartieri parliamo di una sorta di restyling di quella che è la città crotonese non solo sono tanti i lavori sono tanti i cantieri aperti adesso sta a lei spiegare un po' ai cittadini come sta procedendo il lavoro La domanda è chiarissima io ho portato anche degli elaborati per far vedere effettivamente in tutto il territorio di Crotone come viene come sta intervenendo l'amministrazione senza discriminare nessuno ho fatto vedere che abbiamo lavori nella zona nord tipo Fratelli Bandiera abbiamo fatto lavoro a Margherita a Gabella scendendo sulla 106 verso Poggio Budano cantieri già aperti cantieri che stanno lavorando poi siamo andati verso il centro abbiamo visto tutti i lavori che sono stati fatti e già ultimati poi siamo andati verso Farina e avete potuto vedere su quella mappa quanti interventi ci sono che sono stati già ultimati e alcuni sono in corso di lavoro alcuni sono in corso di rimodulazione l'idea dell'amministrazione è quella che quando tu entri in un quartiere risolvi un problema e ce n'è un altro vicino se hai l'economia deve risolvere lo stesso perché poi non ci puoi ritornare più perché è così vasto il territorio che le programmazioni successive noi andremo ritorneremo nelle zone dove non siamo intervenuti questo è il concetto la cosa che io ho presentato che è iniziato oggi è il il ponte via argentina il ponte via argentina è un altro di quei lavori un altro di quei lavori che noi abbiamo avevamo con un problema serio un ponticino piccolo basso e si allagava tutta la zona e lì i lavori sono iniziati adesso faremo un ponte più grande più alto in modo da togliere quel rischio idraulico che c'era prima e poi l'efficientamento del comune questo è un lavoro di 1.800.000 euro che porterà un risparmio per quanto riguarda le amministrazioni adesso ma soprattutto quello del futuro perché il ponte termico caldaie nuove impianti nuove impianti tecnologici settorializzati in modo tale da consumare il meno possibile parliamo anche di quello che è l'ampliamento del cimitero parliamo di 120 loculi altri 96 verranno ultimati ma ce ne saranno poi altri 300 come funziona? c'è un piano regolatore per il cimitero abbiamo un piano dove qualsiasi cosa noi qualsiasi finanziamento qualsiasi soldo denaro che noi abbiamo sappiamo già cosa realizzare allora adesso siamo arrivati a consegnare in questi giorni altri 126 loculi c'è un padiglione quello che noi conosciamo padiglione finito c'è un altro da 96 che sta per partire lo stiamo affidando e abbiamo già stiamo progettando un altro blocco di 360 loculi quindi contemporaneamente noi stiamo continuando a costruire padiglione ma stiamo andando verso l'autosufficienza perché contemporaneamente stiamo recuperando i vecchi fino ad arrivare che questa autosufficienza deve essere automatica in sostanza perché più ci avviciniamo agli anni nostri più ne toglieremo e questo progetto continuerà in eterno cioè perché poi in questa maniera noi stiamo facendo un lavoro penso intelligente nel non solo costruire ma anche recuperare le associazioni culturali crotonesi Gettina di Vitalba e Sette Soli hanno pensato ad una petizione online che tutti possono sottoscrivere e firmare ma rivolta specialmente ai tecnici del settore inquadrati nei ranghi del MIMACT o collaboratori esterni o impegnati in altri settori ma con competenza ed esperienze in tema di musealizzazione e fruizione dei beni culturali o ancora studenti per dare la possibilità ad altri professionisti di dire con chiarezza che il cemento non è l'unica soluzione possibile per tutelare importanti resti archeologici scoperti all'interno di un parco gestito dallo Stato come quello di Capocolonna il link per sottoscrivere la petizione è www.change.org salviamo il foro romano di Capocolonna dal cemento e cambiamo decisamente argomento inaugurazione della nuova circolare veloce che servirà ai comuni di Rende Cosenza e Unical cerimonia partita da Piazza dei Bruzzi alla presenza dei sindaci dei territori convolti nell'iniziativa e del rettore Crisci ma sentiamo il servizio è partito a tutti gli effetti il servizio unico dei mezzi amaco della circolare veloce rossa Cosenza Rende Unica l'inaugurazione del mezzo pubblico con un giro di varo partito da Piazza dei Bruzzi a Cosenza gli altri passeggeri oltre al sindaco Chiuto sono saliti a seguire all'altezza del municipio di Rende il primo cittadino Marcello Manna e infine alla fermata dell'Università della Calabria l'ultimo pendolare il rettore Gino Crisci l'avvio effettivo del servizio segue la firma del protocollo d'intesa siglato a Palazzo dei Bruzzi lo scorso 18 giugno 2014 dal sindaco di Cosenza Mario Chiuto e dal sindaco di Rende Marcello Manna come si ricorderà Manna aveva successivamente trasmesso l'autorizzazione per il transito nel proprio territorio dei mezzi amaco una data storica perché finalmente riusciamo a collegare in un territorio che è unico una città unica riusciamo a dare una linea urbana unica adesso i cittadini e anche gli studenti avranno la possibilità di spostarsi liberamente nella città unica Cosenza Rende Università con un bullman ogni 10 minuti ma al massimo con corse frequenti e quindi questo è un servizio essenziale che diamo è un servizio che dobbiamo offrire ai cittadini è un servizio che dobbiamo offrire soprattutto agli studenti devo dire perché è importante questo elemento e forse anche un tassello importante per avviare questo percorso che dobbiamo assolutamente e che vogliamo assolutamente portare avanti dell'area urbana dell'integrazione dell'area urbana perché si tratta poi di questo tre strutture pubbliche importantissime si mettono insieme per fare quella che dovrebbe essere sempre la norma cioè un servizio per la collettività e questo è il significato più importante da questa storia poi ci sono tutti gli svolti pratici gli studenti l'aiuto il basso prezzo tutto il resto va tutto bene ma è soprattutto questo significato cioè questo dovrebbe essere in Calabria il comportamento delle strutture pubbliche sempre e non è sempre così come gli ho insegnato stavolta lo è e quindi è un segnale veramente importante il progetto partito dal capoluogo di provincia per offrire un percorso prolungato rispondere alla notevole domanda degli utenti che giornalmente si spostano lungo l'asse Cosenza rende unica è adesso una realtà che si concretizza grazie alla sinergia fra i comuni interessati e l'azienda municipalizzata Abruzia dopo la sentenza del Tar che ha annullato il decreto di scioglimento del comune di Ciro per condizionamenti della criminalità organizzata nel pomeriggio di ieri il sindaco Mario Caruso e la sua giunta sono tornati a insediarsi vediamo il servizio sindaco si è appena insediato quasi siamo arrivati prima noi che lei io le faccio questa domanda cosa si sente di dire in questo momento mi sento di dire di aver raggiunto un risultato diciamo inaspettato da molti ma convinto e atteso da me da molto tempo poiché era palese che nel caso di Ciro ho sempre detto dall'inizio non ci sia stata una valutazione ponderata per arrivare allo scioglimento del consiglio comunale è una sentenza del Tar storica tra l'altro è la seconda sentenza perché già il Tribunale di Crotone aveva dichiarato l'annullamento della proposta di incandidabilità e ho detto dall'inizio che forse probabilmente al risultato ottenuto non saremmo stato in grado moralmente di ritornare a ricoprire questo ruolo importantissimo ieri ne abbiamo parlato insieme abbiamo deciso di provarci di nuovo in un contesto sicuramente difficile sperando che comunque chi rappresenta lo Stato questa volta ci sia a fianco e no contro e ha sempre creduto nella giustizia io sono un operatore di diritto e non posso non credere nella giustizia credo che la giustizia ha trionfato in un territorio difficile come il nostro e questo è un segnale importante che la comunità la provincia la Calabria intera deve saper cogliere non si può fare di tutta l'erba un faccio anche in politica ci sono le persone oneste che lavorano onestamente per il bene di una comunità cosa si sente di dire ai suoi cittadini i miei cittadini sono contenti perché non hanno digerito lo scioglimento del consiglio comunale avevano eletto un sindaco con quattro liste tra l'altro avevano eletto un'amministrazione che aveva ben operato in questa in questa piccola realtà e i cittadini dirò mi dispiace che chi pagherà il danno saranno i cittadini perché un danno c'è e va risarcito spero che l'altro danno che è quello di rimozione di chi ha provocato tutto questo sia portato avanti da chi è competente a farlo ha parlato di danni subiti e di conseguenza ha parlato di risarcimenti gli impegni che lei conta di prendere adesso crede di poterli portare a termine visto che del tempo si è perso l'Italia in questo contesto le realtà locali sono in continuo monivento la legge cambia continuamente i problemi aumentano lo Stato centrale attribuisce agli enti locali competenze che non possono più reggere piccoli comuni che sono destinati a morire perché non hanno le risorse finanziarie comunità come quelle calabresi che non riescono ad unirsi come fanno in altre parti d'Italia e quindi a sviare il problema legislativo questa sarà la sfida del futuro e spero di riuscire a portare avanti insieme a tutti quanti come abbiamo fatto sempre con dignità con onestà con legalità e soprattutto con amore verso questo paese Il presidente della provincia di Catanzaro Enzo Bruno nel corso di una conferenza stampa ha illustrato i lavori straordinari e urgenti per il ripristino della ufficiosità idraulica e per la manutenzione di una serie di fiumi e torrenti individuati dall'amministrazione provinciale sentiamo L'amministrazione provinciale si è attivata immediatamente per individuare una serie di interventi urgenti sui fiumi per evitare che ancora una volta il maltempo non diventi emergenza Sì io all'atto del mio insediamento uno dei primi tavoli che ho costituito è questa sull'emergenza di sesto di lo geologico a partire dai fiumi considerato che all'epoca c'era l'onda emotiva dei fatti di Genova io con questo tavolo ho cercato di capire chi ha le responsabilità e dove sono le risorse abbiamo con la prefettura all'epoca il dottor Carnizzaro la BR autorità di bacino regionale i lavori pubblici i consorsi di bonifica e Calabria Verde individuato un percorso che è quello di stirare un elenco di fiumi attraverso le indicazioni dei sindaci che presentavano criticità da non trascurare bene noi ci siamo mossi con la provincia abbiamo elaborato un piano tecnico esclusivamente tecnico di fiumi che presentano delle grosse criticità e lo abbiamo elaborato allo Stato però io devo stamattina dire che ci sono solo esclusivamente le risorse della provincia che stamattina annunciamo che facciamo scorrere l'elenco dei fiumi che abbiamo individuato e ci siamo fermati ma dobbiamo riparire altre risorse ci sono delle promesse che io stamattina annuncerò alla stampa e all'opinione pubblica del sediamento dell'osservatorio sulle province si è parlato anche della questione della delega di funzioni e di conseguenza delle risorse che in questi anni non sono arrivate dalla regione io vorrei fare il presidente vorrei fare l'amministratore che è quello che faccio ormai da tanti anni non dico di averlo fatto bene ma lo faccio con passione questo sì lo rivendico e non è autoincensamento non vorrei nemmeno fare il sindacalista dei presidenti però qui una cosa la devo dire l'ho detta a livello nazionale l'ho detta al presidente del consiglio l'ho detta ieri al presidente Oliverio qui si tratta di capire se le province devono esistere devono dare le risorse altrimenti le chiudessero non è possibile che lasciano le funzioni e tolgano le risorse questo significa che c'è una grande responsabilità in chi ha fatto quelle leggi e soprattutto c'è una spregiudicatezza amministrativa che non può ricadere sulle spalle dei presidenti delle province perché se oggi arriva una calamità naturale noi non sappiamo come farci fronte però le responsabilità penali e civili sono sui presidenti delle province questo ho detto ieri a Oliverio e su questo ci devono dare delle risposte altrimenti non si può giocare con la perla delle persone e siamo a Reggio Calabria presso la sede del centro civico di Ravagnese in provincia di Reggio si è tenuto in incontro pubblico sulla raccolta differenziata ma vediamo il servizio conferenza stampa nei giorni scorsi presso il centro civico di Ravagnese che ha dato il via al nuovo servizio di raccolta differenziata porta a porta della VR nella circoscrizione di Ravagnese in merito abbiamo sentito l'assessore comunale di Reggio Calabria nei non zimbalatti è una situazione diciamo che ci obbliga a questo tipo di impatto cioè fare la differenziata non è un optional ma è una necessità è un dovere del cittadino è una necessità perché serve all'amministrazione per migliorare una situazione ambientale una situazione attinente il ciclo dei rifiuti notevolmente problematica e che ora per fortuna sta uscendo da un'emergenza un'emergenza che ormai si può dire cronica perché è un'emergenza che dura da anni oggi siamo a circa 400 tonnellate a terra e questo ci fa ben sperare che nella prossima settimana questo possa completamente trasformarsi in una situazione molto più equilibrata una necessità anche da parte dell'utente perché questo ci porterebbe a ben sperare di arrivare o di pervenire a quel benedetto 35,01% nell'ambito del 2015 che permette all'amministrazione di dimostrare la sua vicinanza alle esigenze dell'utenza e della cittadinanza di Reggio Calabria cioè il punto nodale è quello di abbassare le tasse perché arrivare a questa percentuale con la collaborazione da parte dei cittadini significa spalmare quel 35% che riusciamo a risparmiare non buttandolo in discarica spalmandolo sulla tassazione una tassazione iniqua una tassazione che sta creando grosse problematiche come tutti ben sapete alla cittadinanza regina noi come amministrazione siamo vicini alla città siamo vicini alle esigenze dei cittadini il nostro scopo è risanare l'ambiente e diminuire le tasse con l'archeologa Margherita Corrado dell'associazione Sette Suli abbiamo parlato delle iniziative che si terranno al castello Carlo V di Crotone nell'ambito del progetto illustrissimo castello primo appuntamento sabato 24 gennaio vorremmo parlare di questa iniziativa che si terrà per due sabati nel mese di gennaio fine gennaio e due sabati di febbraio riguarda il castello di Carlo V di che cosa si tratta? L'iniziativa si chiama Illustrissimo Castello ed è organizzata dal gruppo FAI di Crotone di cui io sono la referente ma in collaborazione con le altre due associazioni che mi sono vicine Sette Soli di cui faccio proprio parte Gettini di Vitalba con cui ci occupiamo di centro storico e di problematiche che riguardano anche il castello come sapranno quanti hanno seguito la battaglia dell'anno passato adesso appunto con il FAI organizziamo questa specie di percorso culturale sono quattro appuntamenti in previsione in qualche modo in preparazione delle giornate FAI di primavera 21 e 22 marzo e quindi organizziamo quattro incontri i primi due nella biblioteca comunale quindi all'interno del castello nella caserma campana dove è la biblioteca Armando Lucifero gli altri due invece nell'aulamagna del liceo classico e le prossime date appunto sono questa di sabato 24 la successiva sabato 31 e poi invece in febbraio il 14 e il 28 questo sabato ed è il motivo per cui sono qui ad invitare la cittadinanza a partecipare verrà la professoressa Francesca Martorano che è un architetto insegna all'università di Reggio Calabria da tanti anni ed è una delle massime esperte in fatto di architetture militari di età medievale moderne si è occupata tanto anche di Crotone e proprio del castello di Carlo V lei viene però per presentare il terzo volume dei quaderni di Piazza Villaroia che proprio le associazioni che ho citato pubblicano quello che è una ristampa dei ricordi di Nicola Sculco libro che uscì nel 1905 dove per la prima volta noi abbiamo un'esplicita diciamo affermazione dell'importanza anche culturale del castello sono anni in cui l'amministrazione comunale ancora pensava di abbatterlo invece Nicola Sculco riconosce il valore di questo monumento la presentazione del libro La città senza memoria si esatto Martorano presenterà questo volume ovviamente soffermandosi soprattutto su gli argomenti che più le appartengono quindi sulle architetture ripeto relativamente al castello ma anche alla cinta muraria però farà una diciamo disamina di tutti di un po' tutti gli argomenti che sono trattati nel testo che è una sorta di aggiornamento di quella prima carta archeologica che aveva fatto Nicola Sculco alla luce quindi di tutte le novità che sono ormai note grazie ai 40 anni di lavoro della soprintendenza archeologica a Crotone questa prima iniziativa di sabato 24 che si terrà nella biblioteca del castello a che ora è l'incontro e soprattutto a chi è aperto questo incontro l'incontro è aperto a tutti ci tengo a dirlo subito tutti sono i benvenuti si può andare dal parrucchiere nel pomeriggio si può fare la spesa nel pomeriggio oppure la domenica ormai non ci sono limiti è un appuntamento culturale di grande rilevanza questa professoressa che viene è veramente un'autorità in materia ed è anche una persona molto capace nel colloquio con il pubblico e l'orario è alle 10 del mattino perché essendo coinvolti gli studenti per i quali diventa quasi parte del percorso di studio non si poteva fare diversamente e quindi aspettiamo tutti alle 10 del mattino appunto in biblioteca e nella rubrica di oggi condotta da Antonio Stajano Dillo a noi si parlerà della corsa che continua per la designazione del nuovo capo dello Stato tra sacro e profano il web suggerisce il nome del noto conduttore Giancarlo Magalli ma sentiamo cosa ne pensa la gente nella ridda di nomi per l'elezione del nuovo presidente della Repubblica Italiana tra il serio e lo scherzoso salta fuori quello del conduttore televisivo Giancarlo Magalli il popolo del web sembra impazzire e vorrebbe lui quale presidente il conduttore dei fatti vostri ma le persone che cosa ne pensano? No per cortesia è solamente una bufala penso è simpaticissimo sì però non ce lo vedo proprio lei conosce Giancarlo Magalli dei fatti vostri? Sì è una brava persona quindi lo vedrebbe? non lo so non sono pratica lo vedrebbe Magalli? credo di no beh è un fenomeno tutto italiano penso che ognuno deve appunto fare il proprio ruolo quindi se è un presentatore televisivo deve fare il presentatore televisivo chi fa il politico deve fare il politico non credo che sia adatto almeno per me ma dai ma allora è vero è vero 31 eccolo qua l'anno se ne va se ne va voi siete pronti a questa festa di stasera i veglioni i trenini i brindici ed è tutto anche per questa edizione grazie per averci seguito vi lascio in compagnia dello sport ieri pomeriggio presentazione ufficiale dei nuovi acquisti del Crotone ad intrattenere la stampa il direttore sportivo Ursino che abbiamo ascoltato insieme a Stojan Cordaz Matute Stojanovic e Dozi ve li proporremo questa sera durante la trasmissione sportiva noi in B mancano pochissimi giorni alla chiusura del calcio mercato ne stavamo discutendo anche in sala stampa il Crotone si è rinforzato tantissimo quali sono se ci sono ecco senza voler rubare assolutamente nulla i prossimi colpi di mercato se ci saranno uno o due giocatori vediamo dipende da quelle che se ne vanno perché abbiamo la lista bloccata non si può prendere i giocatori e poi non farli giocare penso uno o due elementi arriveranno altri due uno o due Stojan volevo chiederti gentilmente Matute conosce la mentalità del nostro mister i portieri devono stare a parte perché hanno un ruolo diverso tu hai l'intenzione ritengo di sì ma anche il modo di pensare di calarti in quello che è il modo di interpretare il calcio di Massimo Drago ti trovi insomma in linea? ho fatto questo pensiero quando mi hanno chiamato se riesco a mettermi in situazione del mister però tatticamente si è ben chiaro come voi avete detto che sono diciamo un talento penso che il gioco del mister come il gioco del mister sia adatto alle mie caratteristiche diciamo Massimo Drago può contare sulle tue caratteristiche? sì è normale una volta che siamo in doppia a Crottone penso che non solo il gruppo può contare su di me e della mia disposizione ma è da parte loro per su di me grazie importante vittoria della S Crottone ottenuta in un finale rocambolesco è riuscita ad avere la meglio sui reggini del cataforio una vittoria arrivata in maniera rocambolesca arrivata nel finale forse non ci credevate più dopo il primo tempo nel primo tempo sicuramente come appena detto che magari era un risultato isperato ma visto la seconda parte della partita diciamo che è stato tutto a vantaggio nostro il Crottone ha meritato di vincere questa partita perché al di là delle buone giocate che ha saputo mettere in campo anche il carattere ha dimostrato di avere carattere e questo è una componente importante per questa squadra se vogliamo dire qualcosa anche noi visto per come abbiamo iniziato la stagione a proposito di questo si guarda meglio al futuro dopo questa vittoria contro una squadra che naviga in zone alte se dobbiamo attenerci a quello che è la lettura della partita di oggi diciamo di sì e io mi auguro che sia così e dovrà essere così fino in fondo alla fine del campionato altrimenti vorrà dire che abbiamo già dimenticato quello che abbiamo fatto di buono questa sera grazie una partita rocambolesca molto intensa è finita con una sconfitta per voi ve l'aspettavate dopo il primo tempo? sinceramente dopo comunque la mia espulsione su un rigore che comunque stava andando scivolata la palla mi è andata sotto il braccio è stata una cosa un po' involontaria comunque anche quello è inciso sulla gara e l'arbitraggio ha lasciato un po' a desiderare ma assolutamente non è una giustificazione perché i nostri avversari hanno lottato su tutti i palloni hanno sicuramente meritato la vittoria più di noi perché non è assolutamente una giustificazione questo ti fa onore merita gli avversari hanno dimostrato che comunque lottando su ogni pallone si può arrivare a raggiungere un obiettivo che è quello della salvezza comunque abbiamo lasciato un po' a desiderare dopo la mia espulsione praticosa e infortunato avevamo Gregorace diffidato ma non assolutamente i miei compagni che è entrato in campo ha dato comunque il meglio di sé e niente ci servirà da lezione comunque per le prossime partite che verranno quindi non uscite ridimensionati da questa sconfitta assolutamente assolutamente usciamo più uniti e compatti di prima e cercheremo di fare molto meglio la prossima e cercheremo di fare